Ciao bellissimi! Come state? Tutto bene? Oggi ho deciso di mantenere una posa da Mona Lisa perché da questo lato mi è cresciuta un'eruzione vulcanica enorme quindi per evitare di distrarvi starò in questa posizione. Oggi è giovedì quindi il video sarà veramente breve, non come quello di giovedì scorso che invece era effettivamente lungo più o meno come quelli della domenica. Oggi parliamo di un'altra creatura leggendaria del friuli Venezia Giulia che è veramente poco conosciuta anche perché è specifica di un particolare luogo e cioè della valle dell'Isonzo. Oggi parliamo del Chiatez. Oggi non inizierò con il solito ma che cos'è il Chiatez? Tanto per cambiare. Ma parliamo direttamente di questa creatura leggendaria che direi essere il satiro frulano. Questo perché soprattutto dal punto di vista estetico è per metà uomo e per metà capra. Piccola digressione sui satiri per chi non sapesse che cosa siano. Sono delle creature mitologiche in particolare dell'antica Grecia quindi della mitologia classica che appunto erano metà uomini e metà capre. Sicuramente avete visto e conoscete bene Filottete credo sia il fauno, il satiro più famoso in assoluto. Colui che ha addestrato Hercules nel famoso cartone della Disney. Al secondo posto metterei Mr. Tumnus che invece è il satiro delle cronache di Narnia. Non mi viene in mente un terzo posto. Ecco questa era la piccola parentesi. Ora non parliamo del satiro greco ma parliamo del Chiatez. Il Chiatez in realtà più che un satiro come carattere è più simile al macchiarote friulano. Anche di questo non parliamo oggi ma vi lascio il link al video sul macchiarote. In ogni caso si tratta di uno spiritello, di un folletto dei boschi. Ha la capacità come il macchiarote di trasformarsi in qualcos'altro che sia sia più piccolo che più grande. Può trasformarsi in filo d'erba ma anche in albero. E come il macchiarote anche il Chiatez fa perdere le persone nel bosco utilizzando soprattutto suoni e versi. Non col toc toc del suo bastone o facendosi calpestare un orma. Però diversamente dal macchiarote il Chiatez non lo fa solo per dispetto o per divertirsi. Ma il suo scopo è portare, trascinare, spingere le persone a entrare nella sua caverna per poi ucciderli, torturandoli col solletico. Non è ben chiaro quale sia il reale scopo per cui fa questo. Probabilmente è solo un modo per trasmettere la paura del Chiatez. Quindi attento ad andare nel bosco che c'è il Chiatez ti porta nella sua caverna e ti uccide col solletico. Probabilmente anche perché quando si racconta una storia a un bambino magari si evita di dire certe cose un po' troppo crude e quindi il fatto del solletico va a smorzare la tragedia della morte. In ogni caso questa è la caratteristica del Chiatez. Un'altra cosa che si sa del Chiatez è che può essere molto gentile con i pastori e in particolare mostrare a loro dove si trovano le fonti d'acqua in montagna ma può essere anche terribile con chi lo tratta male facendo rotolare enormi massi sulle case delle persone che l'hanno indispettito. Per oggi in realtà è tutto perché il Chiatez come vi dicevo è una creatura abbastanza di nicchia di cui si ha poche informazioni o meglio di cui io ho poche informazioni. Se voi ne avete altre ovviamente condividetele pure. Vi saluto, ne approfitto anche per dire che finalmente sono negativo quindi è passato il covid, non ce l'ho più e da domani torno a girare liberamente magari mi troverete in giro per il Friuli. Vi auguro un buon giovedì e ci vediamo domenica. Ciao bello.